Per gli approfondimenti sui comandi Minecraft e come utilizzarli con i command block oggi vediamo come utilizzare il comando Minecraft Scoreboard per simulare un negozio su Minecraft una compravendita ecco quello che vedremo oggi in questo video come creare un negozio funzionante su Minecraft con il comando Scoreboard ora la sigla del canale e i saluti a fine video ciao sono Marco Vigelini se questo è il primo video che segui sul mio canale allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina in questo modo non perderai i miei prossimi video eccoci nel nostro negozio nel nostro strumento di compravendita da realizzare in Minecraft qui a sinistra zona verde riusciremo a vendere, a comprare dei diamanti o dei lingotti d'oro qui a destra venderemo diamanti o lingotti d'oro il meccanismo è nuovo completamente però voglio partire dal traguardo che abbiamo creato la volta scorsa cioè il traguardo della chiave che ci permetteva di aprire quella porta il mio personaggio ha un traguardo di tipo chiave e Marco ha il valore di tipo 1 allora andiamo ad aprire questo command block e vediamo cosa c'è scritto al suo interno apriamo questo command block che ci dice scoreboard objective list andiamolo a eseguire dalla nostra chat dei comandi quindi quindi scoreboard objective list do invio e ci dice che abbiamo un unico traguardo si chiama chiave e viene visualizzato come chiave ed è quello a destra del nostro monitor e abbiamo soltanto quel traguardo adesso andiamo ad aggiungere un nuovo traguardo il traguardo dovrà essere aggiunto secondo questa sintasi scoreboard objective aggiungi soldi di tipo dummy la cui visualizzazione sarà di tipo soldi adesso lo vado a digitare da command block ok un nuovo traguardo è stato aggiunto io adesso vado a vedere la lista dei traguardi e abbiamo che un nuovo traguardo soldi è stato aggiunto viene visualizzato come soldi perché ancora sulla destra del mio schermo non compare? perché in quel caso ancora non abbiamo detto di far comparire quel traguardo anche se io aggiungo andassi ad aggiungere scoreboard player add Marco Vigilini soldi 0 cioè cosa fa fare questo quando l'abbiamo visto la volta scorsa aggiunge ai giocatori in questo caso soltanto a Marco Vigilini va ad aggiungere il valore 0 al traguardo di tipo soldi cioè facciamo partire Marco con 0 soldi clicco il comando è stato eseguito ok? è stato incrementato di 0 quindi Marco Vigilini dovrebbe avere 0 soldi ancora non lo vediamo perché? perché dobbiamo comunicare a Minecraft di impostare proprio il traguardo soldi come sidebar e di farcelo vedere quindi scoreboard objective set display lato che cosa? il nostro traguardo soldi non appena vado a cliccare questo pulsante il traguardo chiave scompare perché prende il suo posto il traguardo soldi prima di andare a vedere il meccanismo che sta alle spalle di questo negozio andiamo a vedere se funziona allora proviamo ad acquistare noi non abbiamo soldi proviamo ad acquistare questi diamanti o questo lingotto d'oro ti dico subito che costano 10 soldi e poi proveremo a vendere noi non abbiamo né diamanti né lingotti d'oro vendendo un diamante o un lingotto d'oro dovremmo ricevere 5 soldi allora vediamo quello che succede io clicco su questo pulsante non ho soldi mi dice attenzione non hai soldi a sufficienza clicco per il lingotto stesso messaggio non hai soldi a sufficienza non abbiamo diamanti clicco su questo pulsante non riesco a vendere alcunché e non ricevo però alcuna comunicazione stessa cosa per il lingotto d'oro non riesco a vendere niente i miei soldi sono sempre gli stessi andiamo in uno ipotetico bancomat preleviamo 10 soldi alla volta prendiamone 30 e adesso vediamo se riesco ad acquistare qualcosa abbiamo detto che il diamante e il lingotto d'oro costano 10 soldi clicco sul diamante ne ricevo uno e ricevo il messaggio ottimo hai acquistato un diamante e hai per 10 soldi ho acquistato un lingotto in questo caso ho effettuato una spesa di 20 e mi sono rimasti 10 soldi se adesso apro l'inventario mi accorgo che ho veramente un diamante ed un lingotto clicco nuovamente sui diamanti ho acquistato un diamante per 10 soldi ho finito i soldi vado nel mio inventario e vedo che i diamanti sono diventati 2 quindi 10, 20 30 soldi in precedenza quindi siamo riusciti ad acquistare qualcosa ora proviamo a vendere il nostro diamante clicco su questo pulsante hai venduto un diamante e ricevuto 5 soldi ovviamente la compra vendita è avvantaggio di chi acquista in questo caso quindi noi perdiamo 5 soldi se acquistiamo un diamante e poi lo rivendiamo giustamente vendiamo il secondo diamante hai venduto un diamante e ricevuto 5 soldi siamo a 10 soldi abbiamo terminato i diamanti non possiamo vendere i diamanti possiamo vendere l'unico oggetto che ci è rimasto cioè un lingotto d'oro e abbiamo ricevuto 5 soldi per un totale di 15 adesso andiamo a vedere il meccanismo che si cela dietro questo negozio andiamo a vedere il funzionamento del banco quando io clicco questo pulsante alle sue spalle vediamo ha un command block questo command block è di tipo impulso incondizionale necessità di piedalossa quindi deve essere attivato il comando che esegue e dice di aggiungere al giocatore più vicino per quanto riguarda il traguardo soldi aggiungi 10 quindi nel momento in cui io clicco questo pulsante da 0 siccome sono il giocatore più vicino i miei soldi il mio traguardo viene incrementato di 10 quindi 10 20 30 40 e così via quindi abbiamo simulato un banco mat ovviamente ci serviva per iniziare la compra vendita andiamo a vedere invece tutto ciò che c'è dietro la vendita del diamante ho fatto un po' di spazio abbiamo due catene di comandi una che va verso le spalle del blocco e una al di sotto vediamo prima quella al di sotto cosa fa questo comando mi dice il giocatore ha soldi a sufficienza cioè i soldi che ha a disposizione il giocatore più vicino fa un test è compreso tra 0 e 9 noi sappiamo che il nostro diamante costa 10 se ha dei soldi che sono compresi tra 0 e 9 noi gli restituiamo questo messaggio title in questo caso al giocatore più vicino action bar è quella che vedete in basso sopra appena il nostro inventario corrente paragrafo L paragrafo 4 ci permettono di mettere in grassetto e in rosso la scritta paragrafo R mi annulla la colorazione quindi riprende a scrivere in bianco e scrivo attenzione non ha i soldi a sufficienza questo nel caso in cui il nostro test abbia successo perché il traguardo di chi ha premuto è compreso tra 0 e 10 impulso incondizionale pietra rossa mentre per quanto riguarda il blocco successivo questo è di tipo catena è condizionale cioè deve avere avuto successo quello che lo precede ed è sempre attivo quindi se questo blocco ha successo allora questo viene eseguito differentemente invece questo comando va a testare se il nostro giocatore ha più di 10 soldi ha più di 9 soldi da 10 in su questo è il valore massimo se ho un valore da 10 almeno soldi allora il nostro impulso incondizionale che necessita di pietra rossa andrà ad attivare tutta la catena successiva la catena successiva è composta da questo tipo di blocco tipo catena ovviamente condizionale cioè questo viene eseguito se il precedente ha avuto successo quindi ai soldi allora vengo eseguito è sempre attivo cosa fa questo comando? relativamente allo scoreboard di tipo al traguardo di tipo soldi riferisci a giocatori e rimuovi 10 il valore 10 al giocatore più vicino quindi tolgo al giocatore che ha premuto il 10 soldi poi gli restituisco give chiocciola p diamond questo blocco è sempre condizionale catena sempre attivo e poi gli dico anche grazie catena condizionale sempre attivo il messaggio ovviamente non è grazie ma è un title al giocatore più vicino action bar quindi compare sopra l'inventario corrente ottimo hai acquistato un diamante per 10 soldi nuovamente paragrafo l per il grassetto paragrafo 2 per il colore verde paragrafo r per rimuovere l'impostazione dei colori che ho inserito questa verde e riprende a scrivere in bianco questo è il meccanismo di diciamo di acquisto del diamante quello del del lingotto è esattamente lo stesso andiamo a fare un nuovo buco così lo vediamo di nuovo quando viene premuto tolgo verifico se il nostro giocatore ha dei soldi compresi tra 0 e 9 se ha un valore compreso tra 0 e 9 ok non ha i soldi a sufficienza nel caso in cui invece il nostro giocatore ha un valore di soldi compreso tra 10 e quel valore grandissimo ok cosa vado a fare gli tolgo 10 soldi al giocatore più vicino remove ok poi nuovamente gli diamo un give in questo caso invece del diamond gli diamo il lingotto d'oro e poi ovviamente lo ringraziamo dicevi guarda ha acquistato un lingotto d'oro andiamo adesso a vedere invece la fase di vendita la fase di vendita è molto più semplice andiamo a vederla da questo lato quando viene cliccato uno dei due pulsanti vengono attivate queste sole catene la prima catena ci dice ok hai cliccato sul pulsante che vuole vendere il lingotto d'oro allora io provo a togliere al giocatore più vicino esattamente un lingotto d'oro 0 è relativo al lingotto d'oro il tipo 0 1 è la quantità quindi se un giorno tu invece vuoi togliere dei blocchi di lingotto d'oro 2 ok oppure 3 blocchi oppure 4 blocchi ecco questo è il valore che devi andare a modificare quindi noi proviamo a togliere un lingotto d'oro al giocatore più vicino se ci si riesce questo blocco è di tipo catena è condizionale quindi se siamo riusciti a togliere il blocco il lingotto d'oro allora attiviamo la catena cosa facciamo restituiamo dei soldi al giocatore più vicino in questo caso 5 e poi gli diciamo anche che guarda sopra la barra dell'inventario action bar ottimo hai venduto un lingotto d'oro e ricevuto 5 soldi la stessa cosa viene fatta per il diamante il clear ovviamente è relativo al diamante ne proviamo a togliere uno se ci riusciamo stessa sequenza aggiungiamo 5 soldi e poi gli diciamo che è riuscito a vendere un diamante e abbiamo ricevuto 5 soldi in soldi di ritorno e questo è tutto questo meccanismo ha delle limitazioni ma per adesso è sicuramente un buon inizio per costruire un piccolo negozio all'interno del tuo mondo Minecraft fammi sapere se e dove intendi costruire questo meccanismo di commercio nel tuo mondo Minecraft e fammi sapere anche cosa vendi e compri e da quanto diamanti e netherite sono sempre interessanti se non sei iscritto al canale farlo adesso cliccando sulla campanellina ed attivando tutte le notifiche poi commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto Aurora che mi ha chiesto di essere salutata e lo sto facendo in questo momento ciao ciao ciao